ciao quanto tempo quanto tempo quanto tempo sia te dietro che voi quanto tempo si rivede dopo un nuovo episodio è passato un po di tempo è l'ultima volta un microfono per lavarsi i denti siamo in francia per la penultima gara del campionato mondiale la pista sembra molto molto bella adesso andrò a fare un giretto a vedere com'è la situazione siamo quasi alla fine della stagione cerchiamo di sfruttare al meglio queste gare e ci vediamo dopo ciao e ah non ah e ah 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 45 46 Grazie a tutti per la visione di Zerini Zewer. Ciao, primo giorno di prove libere, è abbastanza positivo, ho preso un po' il feeling con la pista, la pista è molto bella, è già abbastanza canalata, però bei canali rotondi, adesso nelle qualifiche, ho fatto qualche giro, ho cercato, sono riuscito a migliorare un po' durante il corso dei vari giri, il penultimo è stato il miglior, ho fatto un dicesimo, quindi dai, poi la partenza è molto larga, c'è possibilità di partire bene anche da da con i milioni un po' meno favorevoli, e niente, per adesso è tutto, ci vediamo alla Qualy Race. Grazie per la visione! No, dichiarazione stampa non è che ci sia tanto da dire, qualifiche anche buone, buon feeling, però la partenza è scatto buono, ma poi... prima curva ero ultimo, come si può vedere dai video, e da ultimo ho fatto qualche sorpasso, ma comunque... siamo ventesimi nel cancello domani, e la partenza è fondamentale in nulla, anche con un buono scatto sono partito comunque malissimo, cercheremo di migliorare questa cosa... e niente, basta, ciao! Secondo me non è capace di fare ferro a mano sulle strade... secondo me è capace di fare ferro a mano sulle strade... secondo me non è capace di fare ferro a mano sulle strade... cosa? Grazie a tutti 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 Bye